I problemi su B, sono tutti... Arrivo, arrivo C'hanno dentro? Sì Mi sparano da dietro, perché? Forse su mid Sì, sono gli ultimi rimasti, arrivo Cazzo 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 Cazzo, ho poca vita, porca merda Fatte lo z, fatte lo z Ho poca vita Arriva, arriva Madonna A casa A casa? Silons A casa Ace, sei sicuro? Porco d'inca Ti sei regolato